Diamo il benvenuto a Mr. Daniele Amaulo qui a Pineto. Mr. innanzitutto come hai accolto questa notizia, questa scelta? Sempre con entusiasmo, ho fatto piacere la chiamata di una società importante come il Pineto che in questo momento forse è il fiore d'occhiello della serie D per quanto riguarda l'Abruzzo, quindi una delle migliori società in circolazione, ha un progetto importante, questo mi ha spinto ad accettare la proposta di questa società e quindi quando poi avviene questo cerco di tirare fuori il meglio di me stesso e cercherò di trasmettere il mio entusiasmo, la mia voglia di lavorare con i ragazzi per raggiungere il traguardo che la società si è prefissato. Mister, tu sei abituato a prendere squadre in corsa, magari anche con situazioni di classifica un po' difficili e poi a portarle alla salvezza, che cosa puoi dare in più a questo Pineto? Beh, un po' di esperienza da questo punto di vista ne ho, è chiaro che poi non ho la bacchetta magica quindi magari dobbiamo trovare un'inversione di rotta a tutti quanti, ci dobbiamo rimettere in discussione a partire da me perché non si va avanti per quello fatto negli anni passati cercando di preparare al meglio le partite, dare delle risposte e l'obiettivo nostro è quello di lavorare e far sì che chi ci ha scelto rimanga soddisfatto del nostro lavoro.